Risposte rapide agli amministratori e imprenditori per far ripartire l'economia ed il turismo dell'area vestina. Questo l'impegno preso oggi appenne dal sottosegretario con delega al turismo Dorina Bianchi, in visita in una delle zone della nostra regione maggiormente colpite dal maltempo del mese di gennaio. Con lei la senatrice Federica Chiavaroli, sottosegretario alla giustizia. Noi abbiamo tentato di mettere l'Abruzzo e tutte le zone terremotate al centro della nostra azione. Voi sapete che nel Mille Proroghe abbiamo trovato dei fondi per quanto riguarda tutte le questioni di spettacoli dal vivo e anche le manifestazioni che possono essere svolte nell'area del terremoto. Abbiamo anche nel piano strategico nazionale del turismo inserito la partecipazione nel BIMBACT nell'industria 4.0 che significa anche avere la possibilità di inserire le aziende turistiche e tutti gli operatori turistici che operano in un settore che sta risentendo così tanto in questo periodo della tragedia che ha colpito queste zone. Quindi stiamo lavorando per stare il più possibile vicino agli operatori. Di fatto oggi qui si insedia un tavolo tecnico formato da tutti i referenti più importanti perché è presente il Ministero delle Attività Culturali, è presente la Regione Abruzzo col suo Vicepresidente, è presente l'Enit col Direttore Generale ed è presente Invitalia. Ci sono quindi tutti i soggetti che possono dare a queste centinaia di operatori oggi riuniti qui le risposte che quest'area merita. Quest'area ha bisogno di tempo per ripartire e le risposte vanno date soprattutto per consentire alle imprese di sopravvivere a questo momento difficile. Noi abbiamo chiesto intanto 3-4 cose che però ancora non si verificano. La prima, la sospensione delle imposte, perché il primo elemento è quello, noi non possiamo chiedere a persone che hanno avuto queste difficoltà di pagare le tasse. Sospensione dei mutui, ammortizzatori sociali straordinari per i dipendenti delle imprese colpite e poi questo status, adesso parliamo di zona franco-urbana.